Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di PowerPivot. Quest'oggi andremo a vedere come funziona la funzione DATES, con la S finale, Year Today. È una funzione veramente molto potente che a me piace veramente molto. Andiamo nel file di esempio. Allora, continuiamo con la base dati che abbiamo visto nelle precedenti lezioni e arricchiamo ancora questo file, così poi per gli abbonati ovviamente il file è in descrizione ed è scaricabile. E così avrete tutte le formule a disposizione. Comunque sì, che cosa ci permette di fare? Praticamente la DATES, Year Today, va a calcolare per ogni contesto di filtro che mettiamo nella pivot. Ad esempio adesso io sto tirando giù l'anno e il mese. Quindi lui fa un cumulato della quantità di riferimento che sto prendendo in formula, che in questo caso è quella che vedete qui nella colonna F. E lui mi fa appunto il cumulato, perché in questo mese mi somma praticamente praticamente tutte le quantità che sono dentro al mese 1. Poi quando lui va qui e vede febbraio, lui fa sempre il Year Today, quindi dal 1 gennaio al 28 febbraio. E lui mi fa praticamente il cumulato, ok? Perché somma tutto quello che c'è su gennaio, qui mi somma tutto gennaio e febbraio, qui mi somma gennaio, febbraio e marzo. Se andiamo a fare la somma di queste due celle qua, vediamo appunto che in basso mi dà 27.733. È proprio un cumulato. Quindi io qui che cosa ho fatto? Perché ci torna utile questa cosa qua? Io qui ho fatto una colonna che è Year Today, quindi questa qui ogni anno vedete che lui poi riparte da zero a fare il cumulato. Non è che continua e va avanti col cumulato per tutti gli anni, se ci sono più anni. Ogni anno lui fa appunto il cumulato fino in fondo. Poi io ho fatto un'altra misura che si chiama Previous Year Today, quindi lui fa sempre il cumulato di quello che è riferito all'anno precedente. Difatti se andiamo qua, vedete che ho 14.670, eccolo qua, e poi mi fa 27 che è la somma di questi due, e è esattamente i valori che vediamo qua. Però questo è il Year Today, quindi è calcolato sull'anno corrente. Questo è sempre sull'anno precedente. Così poi che cosa possiamo calcolare con questa cosa qua? Possiamo farci un delta che è dinamico rispetto a quello che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Ed è proprio qui che secondo me questa funzione dà il suo meglio. Difatti se andiamo a vedere poi il delta, vedete lui fa il delta, che è questo valore qua, meno questo valore mi dà praticamente meno 433. E così via. Così facendo riesco appunto ad avere il delta anno su anno. E vediamo che cosa succede. Però, allora, filtriamo ad esempio l'anno 2020. Ci filtriamo quest'anno qua, che è bello consistente con tutti i dati. Adesso vediamo che noi praticamente qui abbiamo appunto l'anno 2020. E sto andando per mese. Vediamo che cosa succede se cambio la dimensione. Io cambio la dimensione dell'anno mese e ci metto, ad esempio, ci metto, vediamo, mettiamo la settimana ISO. Quindi mettiamo qua, eccoci qua. Ecco che vedete che praticamente le misure fatte col dates year to date si autoadeguono in automatico. Io ho sempre la stessa identica misura e mi sto calcolando il delta in modo automatico. Quello che vedevamo nelle precedenti lezioni noi dovevamo specificare se vogliamo fare il calcolo sull'anno, sul mese o su qualcos'altro. Qui avendo la tabella del calendario che ci siamo portati dentro, vediamo che riusciamo anche a lavorare con la settimana. Ecco il vantaggio anche di utilizzare questa funzione. Perché sulle precedenti lezioni non abbiamo visto una funzione che ci permette di fare il calcolo anche per la settimana. È una cosa un po' più complicata. Invece il date Sys appunto ci permette di utilizzare qualsiasi tipo di dimensione noi vogliamo tirare dentro dalla nostra tabella. Prendo anche la data per dire, ecco che lui va a farmi il delta sulla singola giornata. Anno corrente, anno precedente, questo è il suo delta con una singola formula. Allora, visto un attimino come funziona, andiamo a vedere la misura. Allora, rimetto un attimo anno mese, ok, così abbiamo appunto la base di partenza. Andiamo a vedere la formula DAX, come funziona questo Dates Year to Day. Allora, andiamo in Power Pivot. E eccole qua, io ho aggiunto queste tre misure rispetto a quello che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni. Infatti vedete il day, il month, il quarter, il year, ok. E qui che cosa faccio? Combino, praticamente diciamo che nella prima formula che vado a fare, ecco qua, faccio un control, rotellino avanti, così facciamo un bel zoom che ci vediamo bene. Che cosa faccio qua? Sempre con la funzione calculate, perché dobbiamo andare a modificare il contesto di come ragiona il filtro sulla pivot. Perché vi ricordo che il contesto di filtro, quando io tiro giù una quantità, lui guarda tutti i filtri che stanno intorno e poi calcola appunto questo numeretto. Noi dobbiamo scardinare sta cosa, quindi dobbiamo utilizzare il calculate. Quindi noi che cosa facciamo? Facciamo un bel calculate. Entriamo e gli diciamo, perfetto, che cosa vogliamo fare? Dentro qua, che espressione gli vogliamo dare? Vogliamo fare la somma del campo quantità. Ecco, questa è la nostra espressione. Ecco qua il nozzolo poi che è il contesto dei filtri, ok, sul calculate. Quindi punto e virgola e qua gli diamo il filtro. In questo caso lì ne diamo uno solo. Qui scriviamo semplicemente dates year to day. E qua però, attenzione, che cosa ci dobbiamo mettere affinché funzioni bene bene bene? Ci dobbiamo mettere una tabella del calendario che abbia tutte le date consistenti del nostro anno. Perché se prendiamo la data del venduto, magari per qualche giorno non c'è la data, perché magari è un sabato o domenica e non c'è nessun tipo di venduto. Quindi quando utilizzate questa funzione qua, a maggior ragione, come sempre, dovete avere una tabella del calendario consistente alle spalle. Quindi qui si fa dates year to day, si fa calendario data. Quindi dentro qua gli mettiamo semplicemente la data sul quale lui andrà a fare il year to date. E gli diamo la data singola, gli diamo il giorno. Così poi noi quando cambiamo la dimensione, lui praticamente riesce a calcolarle in automatico, perché lui fa la somma delle date, ok? A prescindere dalla dimensione che tiriamo giù, mese, settimana, quarter, quello che volete, ok? Niente, è veramente semplice così. Quindi questo è il year to date, quindi fa il calcolo sull'anno corrente e ricordo fa il cumulato. Vediamo il previous year to date. Ok, qua dobbiamo combinare una cosetta. Eccolo qua. Allora, facciamo un po' di dezoom. Ok, eccola qua. Allora, è molto simile a quello che vedevamo prima, però dobbiamo andare in soccorso con la formuletta, con la funzione date add. Quindi anche qua, calculate. Facciamo la somma della quantità che ci interessa. Ovviamente questa somma la possiamo calcolare in una misura a parte, poi richiamare la misura dentro calculate. Quindi poi nel contesto dei filtri che cosa gli diamo? Quindi punto e virgola, gli diamo date add e qua faccio come ho fatto la year to date prima. Quindi date sys, il calendario, però io lo devo calcolare sull'anno precedente. Quindi con quello che abbiamo visto nella lezione precedente utilizziamo date add. Quindi lì diciamo, ok, fammi la dates year to date sul campo data. Però mi fai un date add, meno uno, e utilizziamo praticamente l'intervallo annuale. Così lui farà sempre il calcolo sui dati dell'anno precedente. Farà sempre il cumulato sulle giornate dell'anno precedente. Ecco che così noi siamo andati a fare la previous year, year to date. Ok, poi che cosa possiamo fare anche con questa date year to date? Perché magari potremmo avere l'esigenza, io non l'ho mai utilizzato, ma magari potremmo avere l'esigenza di far chiudere l'anno. Quindi perché, cosa abbiamo detto prima? Se noi andiamo a vedere tutti gli anni, che cosa succede? Che appunto lui quando termina l'anno che abbiamo in corso, lui riparta a fare il cumulato dall'anno successivo. Così abbiamo sempre l'anno consistente. Però ipotizziamo che noi dobbiamo far finire questo cumulato in un mese differente dal 31-12 dell'anno che stiamo analizzando. Magari vogliamo fare l'intervallo che va da giugno a giugno. Dates year to date ci permette anche di scegliere questa cosa qua. Come si fa? Si fa esattamente così. Allora adesso lo facciamo magari sulla year to date. Quando noi entriamo su dates year to date, vedete che quando entriamo qui, adesso magari non si vede, ma lui dice dates year to date e qua mi dice le date che lui deve andare a considerare. Poi mi fa un punto e virgola e mi dice year and date. Eccolo qua come si fa a gestire questa cosa qua. Quindi noi andiamo appunto qui, facciamo un bel punto e virgola che questa opzione è facoltativa. Quindi se non la mettete sapete che è il 31-12 dell'anno che sta analizzando. E qui dobbiamo metterlo all'interno delle virgolette, quindi shift 2 della tastiera. E quali dobbiamo dire? Il mese dove deve finire, ad esempio li diciamo, facciamo aprile, facciamo 4, quindi non mettiamo 0-4, mettiamo solo il mese singolo. E li mettiamo un bel slash e li mettiamo il giorno in cui finisce il mese. Dobbiamo sempre dare mese e giorno. Allora aprile ne ha 30, facciamo un bel invio. Se adesso noi andremo a vedere come funziona la year to date sulla nostra pivot, vedete che praticamente, lo vedete proprio qui, faccio anche un po' di zoom, vedete che lui fa un cumulato che va praticamente da maggio, perché noi abbiamo detto che deve chiudere a fine aprile, quindi lui comincia a fare il cumulato dal maggio dell'anno precedente, va avanti e va avanti, e fa il cumulato fino ad aprile del mese successivo. E poi ricomincia da capo. Ecco che così facendo possiamo andare a fare una forzatura su come lavora il sistema di calcolo del cumulato dei nostri dati. È veramente molto molto potente questa funzione. Poi ovviamente per fare il delta, lo vediamo qua, adesso ho sistemato la formula per fare il delta, non si fa altro che fare la year to date meno la previous year, year to date. Ovviamente qua possiamo utilizzare anche la funzione divide che abbiamo già visto nelle prime lezioni del corso, e questa cosa qua è veramente utile perché possiamo anche andare, adesso io qua ho fatto una sostituzione per avere il delta pezzi, ma potrei fare anche il calcolo di una percentuale, o quello che vogliamo, insomma. La cosa proprio bella di questa cosa qua, ripeto, è che possiamo appunto andare a cambiare le dimensioni con il quale lui va a lavorare. Ad esempio qua adesso prendo l'anno 2020 e appunto lui ha calcolato il delta sul trimestre, senza fare mille misure che non servono a nulla, o meglio, vanno benissimo anche mille misure, ma così è molto molto più flessibile. Vi faccio vedere un'ultima cosa, praticamente rimettiamo anno mese, vediamo che cosa succede se prendo il 2021, perché qui chiude e in questo momento che sto registrando l'anno è il 2021, vedete che effettivamente noi gli abbiamo detto la year today chiude il 31-12-2021, quindi di quest'anno, quindi cosa succede? Lui fa il cumulato, arriva a giugno, e poi ovviamente per i mesi successivi lui mantiene questo cumulato. Quindi sarebbe utile magari tagliare questi mesi che non sono ancora nel passato, e terminare la pivot qua. Questo lo vediamo nella prossima lezione, come fare questo tipo di operazione. Bene, come sempre se la lezione è stata di vostro aggredimento, lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, e magari se siete interessati a scaricare tutti gli esempi che vi propongo nei video, e vorrete sostenere questo canale, contribuendo appunto a diventare sostenitori per il mantenimento, per la crescita del canale e dei suoi contenuti, magari pensate anche a fare l'abbonamento sempre col tasto che trovate sotto al video. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Presto, ciao!